Bentornati, bentornati sul canale. Volevo fare un attimo un punto della situazione con voi, prima delle partite di stasera di Nations League. Peraltro mi ha fregato il sito ufficiale dell'Inter, che aveva dato l'Albania in campo alle 20.45, e invece in realtà è già in campo con Aslanitolare alle ore 18 in Georgia a Bilisi. Dicevo, volevo fare un po' il punto con voi su un argomento che mi sta particolarmente a cuore, perché è abbastanza ondivago. Le linee guida di Octree sul mercato. Allora, ci sono secondo me dei discorsi che qualcuno si diverte a cavalcare, per non si sa bene quale ragione, e altri perché ignorano il reale obiettivo, doppio obiettivo, dell'Inter e quindi anche della proprietà dell'Inter, Octree. L'obiettivo è chiaramente quello che c'era anche con Suning, tenere la squadra competitiva, possibilmente abbassando i costi e innalzando i ricavi. Questo si fa anche calmierando, ad esempio, il monte in Gaggi, e dando una stretta a quelle che possono essere spese superfule, o comunque tenere sempre la rosa competitiva, provando anche a ottenere profili futuribili. L'Inter, bene o male, ha sempre puntato su entrambi. Come spesso succede, ci sono dei discorsi che si estremizzano, ad esempio, in queste ore anche, è tornato di moda il discorso dei giovani. Eh, ma quello è over 25, quello è over 28, quello è over 30, quello è over di qui, quello è over di lì. Le componenti sono tante. Chi, secondo voi, quale persona, quale dirigente, sano di mente, di fronte a due giocatori dallo stesso potenziale, dallo stesso valore economico, identici, tra uno di 24 e uno di 30, sceglie quello di 30? Chiaramente nessuno, perché nell'eventualità, che tu, quando prendi un giocatore, non è che prendi già pensando di rivenderlo, perché non sei, con tutto il rispetto, l'Udinese, il Pescara o la Lucchese, sei l'Inter. Quindi tu prendi un giocatore, sperando di tenerlo, e che sia in grado di farti vincere. Quello è la prima mission, il primo target di quando l'Inter prende un giocatore, è quello che gli serva, non quello che poi sarà rivenduto. Però è evidente che c'è un altro ragionamento, alla base di qualunque club, meglio un giovane, che uno, non vecchio, ma uno più, anche 25 e 27, uguali, stesso ingaggio, stesso tutto, prendi quello di 25, ma mi sembra, è un ragionamento veramente banale. Allora, questa grande rosa vecchia dell'Inter, andiamola a guardare, no? Perché è bello anche, è bello anche riflettere qualche volta e portare però effettivamente poi i numeri. Allora l'Inter di veramente anziani, se così possiamo chiamarli, a Acerbia, e lo sappiamo tutti, 36 anni. Poi a Mkhitaryan, 35, e questi sono i due super titolari, 36 e 35. 35 Arnautovic, 35 Sommer, 34 Darmiano. Sono questi. Non è che l'Inter ha 15 giocatori che fra due, tre anni avranno appeso le scarpette al chiodo. A questi qua. Dei quali un difensore centrale, che ancora è tra i migliori, e comunque si sta facendo il ragionamento sulla sostituzione, noi abbiamo parlato in questi giorni di Itama, si fanno tanti altri nomi, Biol, eccetera, eccetera. Mkhitaryan, è già stato preso Gelinski, è già stato preso Frattesi, in due anni, Gelinski ha 30 anni, uno di 30 anni non lo reprende, vabbè, Frattesi ha 24 anni, per di Ronaldo. E Sommer sappiamo che è già stato preso Martinez. Arnautovic è all'ultimo anno di contratto, come è all'ultimo anno di contratto a Cerbi, come è all'ultimo anno di contratto a Darmiano, e come è all'ultimo anno di contratto anche De Frey, che è l'altro over 30. Chiudono gli over 30, a De Frey e Taremi. Taremi è appena preso a parametro zero per completare l'attacco, e De Frey, anche se lui si stanno facendo dei ragionamenti, ma come vedete, su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 over 30, ben 4 sono all'ultimo anno di contratto. E quanto pesano? A Cerbi pesa pochissimo all'ordo, quindi parliamo di cifre all'ordo, all'anno A Cerbi pesa 2,7 milioni. Mkhitaryan 4,8, Arnautovic 4,4, Sommer 3,2, Darmian 3,2, De Frey, che è uno di quelli con rinnovo più recente, pesa 7 milioni, ecco, qui già c'è un discorso differente, e Taremi 5,5, ma anche lui è arrivato da poco. Se dobbiamo però proprio andare a vedere invece il discorso più preeminente, quello più pressante, è appunto quanto pesano i giocatori all'ordo, e fare una commissione con quanto abbiano di età, perché altrimenti il gioco... Se voi mi dite, eh no, l'Inter è troppi over 25, eh, tra gli over 25 sono Barella e Lautaro, che sono quelli che prendono di più. Lautaro all'ordo prende 16,6 milioni all'ordo a stagione, Barella 12. Li togli? Il terzo è Ciala, che ha 30 anni, quindi va per i 31, e prende 11,1 all'ordo. Quindi questo discorso vale ma anche no. Vale ma anche no. Quali sono veramente invece gli obiettivi che l'Inter si pone? Togliersi, quelli che pesano maggiormente, e che al contempo non danno un contributo fattivo rispetto a quanto percepito. Il primo della... Allora, abbiamo detto di De Frey, che se domani l'Inter gioca la finale di Champions, è una riserva, ebbene De Frey è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, è l'ottavo giocatore dell'Inter che all'ordo percepisce di più, 7 milioni. Per una riserva di 32, quasi 33 anni, è chiaro che comincia ad essere un dato sul quale andare a riflettere. Dopo De Frey c'è Correa. E qui veniamo al nocciolo. Correa ha rimanente un anno, con ogni probabilità non verrà rinnovato, ma questi sono gli errori da andare a evitare. E poi quando tu lo prendi non è che sai che sarà un errore, quindi anche qui insomma il discorso è bello lungo. Correa all'anno, a livello di Lordo, percepisce 6,4 milioni, più di Pavard, più di Taremi, più di Frattesi, più di Mkhitaryan, più di Sommer, più di Darmian, Dönfriss, Carlos Augusto, eccetera, eccetera. Ecco. E Correa, voglio dire, in base a quello che percepisce, dovrebbe dare molto, ma molto più, dovrebbe essere veramente parte integrante del progetto, invece ai margini, nonostante il tentativo di recupero, eccetera, eccetera. Ecco, capite bene, quanto sia importante sgravarsi da questi problemi. Poi c'è Pavard, poi c'è Taremi, poi c'è Frattesi, Mkhitaryan, ancora due anni di contratto, Arnautovic, e poi via via tutti gli altri, fino a Bissek, pensate Bissek che sta praticamente diventando un titolare, ancora a quattro anni di contratto, all'ordo, all'ordo, percepisce di più un milione, percepisce di più solo di Salcedo, di Gennaro e Carboni, perché in Carboni, lo sappiamo, è in pressi dal Marsilio. E sicuramente ci sarà un nuovo per Bissek, che ha ancora, ripeto, quattro anni di contratto, 23 anni, e questi sono, ecco, per esempio, Palasios percepisce poco più di Bissek a loro. e questo ci fa anche capire la strada che si va a percorrere, ma non è una strada, diciamo, ecco, da oggi in poi sarà sempre così, perché il diktat, ma è un diktat normale, è un diktat normalissimo, questo non vieterà alla dirigenza di andare a prendere un parametro zero per il quale ne valga la pena. Il nodo non è il no, è under 25, altrimenti niente, ma poi secondo voi può essere una roba del genere. Ci può essere così mio che da una gestione di un club? Chiaramente no. Chiaramente no. Ci sono delle linee guida sulle quali però ti puoi muovere. Il nocciolo, il vero nocciolo della questione, quindi, non sarà come è sempre stato l'età massima, l'età minima, abbassare l'età media, certo, quello è l'indirizzo, ma il noccio sarà sempre giocatore funzionale, giocatore funzionale in campo e a livello economico. Stop. Si fa un grande parlare, no? Andiamo a prendere i giocatori, ecco, l'Inter ha preso sborsando anche discreto denaro Martinez per la porta, comunque, 26 anni, è chiaro per un portiere bisogna avere dei parametri differenti, ad esempio Aslani, e Aslani non è esploso, Aslani c'è fretta, se non va bene già c'è pronto il nuovo, allora bisogna avere pazienza, no? Aslani ha 22 anni, è al terzo anno di Inter, sì, ma ha 22 anni, Aslani, ha 22 anni. Ci si investe, bisogna avere pazienza, allora che vogliamo? Vogliamo investire e avere pazienza oppure pensare di andare a prendere il ventenne già affermato che ti costa 70-80 milioni, perché poi quelli sono i prezzi, perché quelli che vanno a pescare il Real Madrid, Savigno, il City, Hendrick, il Real, eccetera, eccetera, quelli hanno dei prezzi già oggi enormi, esorbitanti, e allora non è che ci stanno tante strade, o prendi quelli ancora un po' da coltivare come Aslani e hai pazienza, oppure questo discorso non regge, perché gli stessi che oggi non hanno pazienza con Aslani, ad esempio di Aslani, sono quelli che pretendono, e magari quando l'Inter viene accostato a TAC che ha 28 anni, o a qualcun altro insomma di quell'età, però questi non sono giovani, quindi i maturi no, gli esperti over 30 no, perché over 30 è sacrilegio, guai, un over 30, pensate quando l'Inter prese figo se esistevano i social, no, che prendi figo, ha finito la carriera, ha insegnato calcio ancora, pure a Milano, ma l'Inter questo percorso già è iniziato, ad esempio appunto Bissek, ad esempio Palacios, Aslani, lo stesso Buchanan a 25 anni, non è arrivato l'anno scorso, poi mi si dice Pavard, l'Inter non deve prendere i Pavard quindi, la fascia media, l'Inter oggi, frattesi a 24, va per i 25 anni, oggi l'Inter non potrebbe prendere un frattesi oggi, perché è già over 24, mi sembra veramente un qualcosa di miope e molto di chiacchiera, l'Inter deve evitare di avere zavorre, questa è la verità, l'Inter non deve avere zavorre, al contempo deve andare a prendere giocatori funzionali e che garantiscano anche la sostenibilità, è molto difficile, ma questo non vieta di andare a prendere un parametro zero ad esempio come Tà, un parametro zero come David, che non hanno 18 anni, ma che sono giocatori di livello, faccio due nomi, magari non arriveranno, ma è questo l'andazzo, questo l'indirizzo e non c'è quel muro è invalicabile, poi se mi si fa per esempio il discorso di Hermoso, lì il discorso non era tanto l'età, non l'età, lì il discorso è che Hermoso voleva un ingaggio eccessivamente alto per l'Inter, legittimamente non per lui ma per l'Inter perché lì l'Inter già aveva un titolare e quindi come vi sto dicendo se se il titolare già ce l'hai non puoi andare a prendere la riserva che va a percepire lo stesso addirittura uno stipendio superiore a quello del titolare non esiste, non esiste, quindi bisogna capire questo, non bisogna fare i miopi, non bisogna andare dietro a quelli della ricetta fissa e immutabile perché non funziona così, perché quando Marotta Silo per esempio hanno sempre parlato di occasioni si riferiscono sia alle occasioni di età media più bassa ma anche a occasioni economiche di un certo livello voi pensate veramente che se ci fosse la possibilità di prendere un 28enne di grande livello l'Inter se la farebbe sfuggire perché no c'è il Dictat più di quello se c'ha 23 anni e due mesi a una settimana no guarda no perché bisogna fare i calcoli proprio al giorno preciso per l'età media perché dobbiamo far scendere l'età media quello dell'età media ripeto è un discorso generale che però fanno tutte le squadre ogni anno perché ogni anno si aumenta di uno banalmente e si tende quindi ad aumentare e la rosa aumenta l'età media e allora si tende un po' a abbassarla ma club come l'Inter e torniamo quindi all'inizio del video fanno un discorso diverso rispetto a altri club che fanno anche il player trading la loro sussistenza quest'anno l'Inter non ha venduto big se l'Inter prende un giocatore lo prende innanzitutto perché gli serve per vincere le partite non perché lo cresce così un domani lo rivende e galleggia a metà classifica l'Inter non può permettersi di galleggiare a metà classifica anche a livello economico quindi se tu prendi un giocatore investi e poi lo rivendi ma nel frattempo non hai vinto niente e magari perdi il treno champions comunque ci hai perso questo è il discorso quindi prima il discorso tecnico affiancato da quello economico a livello di sostenibilità quindi non devi sforare dei paletti che ormai conosciamo tutti e poi viene tutto il resto saluto grazie a tutti grazie a tutti